Il sindaco lei ha chiamato un atto di ubbidienza alla Costituzione, non di disobbedienza invece a una legge dello Stato. Com'è effettivamente anche qual è il rischio che potete correre ai dirigenti applicando però questa ordinanza? Il rischio non andando nella direzione che abbiamo indicato, perché esistono delle persone che se si interpretasse in altro modo invece la legge è come se non esistesse. E questo è una cosa inammissibile. Quindi la legge parla di divieto di iscrizione nel registro dell'anagrafe, nell'anagrafe dei comuni, questo è un fatto grave, io credo che sarà sollevata questione di legittimità costituzionale, ritengo accolta. Ma in attesa di questo noi abbiamo previsto per queste persone l'inserimento nell'elenco dell'anagrafe delle residenze temporanee per i richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno, che se non ci fosse questo provvedimento non lo potrebbero mai avere, e tutti quelli che rimangono privi di protezione umanitaria internazionale. È una decisione molto importante perché non sospende la legge ma la applica in conformità della Costituzione, in particolare articolo 3, primo comma, della Costituzione dell'uguaglianza dei cittadini, ed impedisce un effetto criminogeno della legge, cioè quello di portare tutti verso la clandestinità con il rischio di un aumento importante della criminalità e di tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Quindi la nostra è un'interpretazione sorretta da giurisprudenza nazionale e comunitaria, in ossegue ai trattati internazionali, della legislazione comunitaria, della Costituzione e dell'interpretazione di tutte le leggi ordinarie, compreso l'ultima, presenti nel nostro Paese. Il Premier Conte dice che però è propaganda, lei come risponde? Potrei dire che è propaganda quella che fa il Governo sulla pelle delle persone e soprattutto che se non ci fosse stata la mobilitazione che c'è stata in Italia, dei sindaci, delle associazioni, dei parroci con l'autorevolissima presa di posizione del Papa, avremmo ancora delle persone in mezzo al mare. Noi non facciamo propaganda, noi siamo i sindaci che stiamo in mezzo alla strada e cerchiamo e proviamo a dare diritti e a rispondere ai bisogni, soprattutto delle tante persone fragili, tantissime italiane e tantissime anche bambini, donne e persone fragili che altri vogliono lasciare in mezzo al mare con il rischio di morire e noi rimaniamo umani. Alla propaganda del Governo rispondiamo con l'umanità. Grazie. Grazie.